Ciao astronauti, ciao astronauti, benvenuti in casa, benvenuti in questo nuovo video molto importante, questo video è molto molto importante perché? Perché io e Sofia, io sono Francesca, insomma secondo me voi direte nella vostra testa ma perché non fate più bene insieme, perché si sente solo la voce di Francesca? Adesso vi diciamo tutte le risposte. Allora, noi abbiamo deciso di fare così, la Sofia si occuperà di astronomi tutta la vita su Instagram, mentre io, che sono Francesca, mi occuperò su YouTube, quindi abbiamo preso questa decisione, per noi è molto importante questa decisione perché vogliamo portare tanti nuovi video, tanti nuovi contenuti, poi io perché vogliamo portare nuovi contenuti, insomma vogliamo farvi vedere, e poi io ho molto più, cioè io ho tempo per fare video, invece la Sofia, appunto sabato non è uscito nessun video perché la Sofia non ha avuto tempo, quindi per la seconda parte degli oggetti riguardanti lo spazio della parte della Sofia non lo so, poi mi farò mandare le sue foto e farò un video con me. E niente, scusate, speriamo che il video vi sia piaciuto, questo video è molto importante, raggiungiamo i 15 mi piace, iscrivetevi al canale e niente, ci vediamo sabato con... un sabato con un nuovo video, ciao, alla prossima!